... ... ... Napoli, l'incredibile storia di Federica, parla, la partoriente multata sul bus dal controllore perché non aveva il biglietto. Mi sono sentita umiliata, volevo solo raggiungere il cardarelli. L'azienda si scusa ma ha respinto anche il ricorso. Lei dice storie come queste non devono ripetersi. Il mistero di Simon da otto giorni nel dirupo. Elicottero e droni per cercare il turista francese sparito nel nulla sui monti del Cilento nel Salernitano. Una settimana fa aveva dato l'allarme con il suo cellulare. La madre lancia un nuovo appello ai soccorritori. Il mio figlio è vivo, continuate a cercarlo. Mare inquinato, la mappa dell'ARPAC. Le analisi sulla balneabilità in Campania. Maglia Nera, la costa Vesuviana. Male anche Marina di Vietri. Mentre torna Balneabile e Marina Grande, lato est di Salerno. Il caldo non aiuta. Il litorale Domizio diventa verde per l'invasione di alghe. Rifiuti emergenza alle porte in Campania. 20.000 tonnellate negli stir, impianti ormai al collasso. E a Ponticelli i residenti denunciano sversamenti illegali e rughi. Nel Sannio i sindaci chiedono più controlli e l'intervento dell'esercito dopo l'ennesimo incendio allo stir di Casalduri. Gemon, bagno di folla nella sua Avellino. Fino a 20.000 presenze ieri sera lungo il corso cittadino per il concerto del rapper avellinese. La soddisfazione del sindaco e dell'assessore Luongo. Cittadini hanno apprezzato il nostro cartellone. E domani sera c'è Giletti con il Tom Mariello. Dramma carcere, SOS da Forni e Bellizzi. Un vero e proprio inferno dietro le sbarre, quello denunciato dai radicali e parlamentari, protagonisti di un sopralluogo nel penitenziario di Salerno. Situazione critica anche ad Avellino, dove stamane c'è stata l'ispezione degli avvocati penalisti. Buongiorno dal TG 696. In primo piano la storia della Partoriente multata a Napoli sul bus dal controllore perché non aveva il biglietto. Lei oggi dice mi sono sentita umidiata. L'azienda ANM si scusa, ma ha respinto anche il ricorso presentato contro il verbale. Sentiamo il servizio. L'azienda napoletana Mobilità ha provato a scusarsi. È stato un eccesso di zelo del controllore, dice Nicola Pascale, amministratore unico di ANM. Ma la storia di Federica Caroccia, partoriente multata sul bus perché senza biglietto, è di quelle che fanno arrossire di vergogna. Alla fine la giovane mamma che accusava le prime doie è riuscita lo stesso a raggiungere l'ospedale Cardarelli di Napoli, dove dopo qualche ora ha dato alla luce il suo bimbo, ma quell'episodio ha lasciato il segno. Mi sono sentita umiliata e non aiutata in quella situazione di disagio. Fortunatamente è andato tutto bene, mia figlia è nata quella notte. Successivamente abbiamo pensato di presentare ricorso. E la cosa che più ci ha gelato è stato il fatto che l'azienda, l'ANM, ha rifiutato il ricorso poiché non hanno ritenuto il mio stato di emergenza, la mia situazione, valida per non avere il biglietto. Federica ha poi presentato ricorso per quel verbale, ricorso respinto, ma l'amministratore unico di ANM assicura, adesso che la vicenda denunciata da Repubblica è diventata di dominio nazionale, una brusca retromarcia. Sarà mia personale cura, annuncia Pascale, riprendere e riesaminare la pratica del suo ricorso, che è stata trattata in modo troppo burocratico. Ma Federica ha un solo obiettivo, storie come queste non devono più capitare. Credo che non debba succedere, non è moralmente corretto. E in quel momento ho vissuto un momento di forte paura, di disagio. Durò attacco del sindaco di Napoli Luigi De Magistris sul caso della Open Arms bloccata a Lampedusa, una vicenda che scrive l'ex PM su Twitter, dimostra il livello di legalità, crudeltà, disumanità e sadismo cui è giunto il governo. Devono essere processati per crimini contro l'umanità e per la morte di tante persone. Per Salvini e Di Maio, conclude De Magistris, un voto vale più di una vita. Servono più volontari per favore aiutatici. E' disperato appello della mamma e degli amici di Simon Gautier, l'escursionista francese disperso sui monti del Golfo di Policastro da ormai otto giorni. La mamma è arrivata nel Salernitano, nel mirino lo scorso numero di persone impegnate nei soccorsi. Ottavo giorno di ricerche, ancora senza esito, per Simon Gautier, l'escursionista francese di 27 anni, disperso nel Golfo di Policastro. Nel Salernitano è arrivata anche la madre del Fin nel disperato tentativo di ritrovare vivo suo figlio. Man mano che passano le ore, però, la situazione si fa sempre più complicata. Anche perché lo studente di storia dell'arte, come ha raccontato nella drammatica telefonata al 118, non ha saputo dare indicazioni precise su dove si trovasse e, con ogni probabilità a causa di una caduta, aveva una o entrambe le gambe spezzate. Ospite di un villaggio a Policastro, la signora del Fin ha rilasciato un'intervista al sito Onda News, nella quale spiega di non aver voluto ascoltare quella telefonata con la voce sofferente del figlio. In Italia, insieme a lei, sono venuti anche molti amici di Simon che si sono aggiunti alle squadre di ricerca, impegnate da giorni in un'area impervia e difficile da raggiungere, che va da San Giovanni a Piro a Scario fino a Cala degli Infreschi. Del Fin ha ribadito quanto già annunciato ieri in un'intervista al quotidiano francese Le Figaro. Non solo il ritardo nei soccorsi, in particolare quelli aerei, ma anche la necessità di impiegare più persone nelle attività di ricerche. Con il consolato francese, dice, che l'ha informata della scomparsa solo quattro giorni dopo. Ci vorrebbe più aiuto da parte di tutti l'appello disperato di Del Fin, lo stesso lanciato via social dagli amici italiani di Simon che hanno fatto appello a tutte le persone di buona volontà a dare una mano ai soccorsi. È stata salvata invece grazie al suo smartphone una trentenne della provincia di Salerno, la quale si era avventurata nei boschi di Forino, in Irpinia, con l'intento di effettuare un trail running. Svarrito l'orientamento, la ragazza si è trovata a vagare in una zona particolarmente impervia. Dopo qualche ora, presa dall'agitazione, ha effettuato una richiesta di soccorso, riuscendo ad inviare con l'applicazione del suo smartphone la propria posizione. In zona sono tempestivamente arrivati i carabinieri della stazione forestale di Forino che, all'esito di una ricerca condotta con meticolosità, sono riusciti a rintracciare la macchia pitata che, affaticata ma in buone condizioni di salute, è stata poi riaccompagnata a casa. Da 24 ore caccia all'uomo a Roma. Non è stato ancora rintracciato il detenuto napoletano Vincenzo Sicignano, evaso ieri dall'ospedale Sandro Pertini dove era stato accompagnato dalla polizia penitenziaria nel carcere di Rebibbia per una visita medica. Le forze dell'ordine hanno ripreso le ricerche del fuggitivo questa mattina dopo che ieri anche un elicottero si era alzato in volo tra i palazzi della zona del Tiburtino. Vincenzo Sicignano è un pregiudicato di 47 anni, nato a Napoli, ma da anni è residente nella capitale, è accusato dei reati di truffa e falso ideologico, è riuscito a fuggire con le manette ancora ai polsi, indossava una maglietta bianca, dei pantaloncini marroni e dei sottopantaloncini rossi. L'evaso è calvo ed è alto 1 metro e 75 centimetri. E adesso andiamo a scoprire cosa hanno svelato le ultime ispezioni dell'ARPAC nei mari campani. Maglia Nera, la costa Vesuviana, ma anche Marina di Vietri, mentre torna Balneabile, Marina Grande, lato est di Salerno. Il caldo non aiuta, il litorale Domizio diventa verde per colpa del boom delle alghe. Sentiamo. Ispezioni a tappeto dell'ARPAC nei mari della campagna e i rilievi di metà agosto parlano chiaro e restituiscono una fotografia inquietante dello stato di salute delle acque sulle nostre coste. Con le ultime sette missioni in mare svolte nei giorni del 12 e 13 agosto sono stati effettuati tutti i controlli previsti sull'intero litorale regionale, anche se nei prossimi giorni, a tutela della salute dei cittadini, sarà comunque alta l'attenzione dell'ente di tutela su eventuali criticità che si dovessero manifestare e saranno eseguite nuove ispezioni con mezzi nautici dell'ARPAC. Da inizio agosto sono stati effettuati complessivamente 394 prelievi con un numero totale di campioni pari a 2.127 registrati dal 1 aprile ad oggi. Particolari criticità sono emerse per i tratti chiamati arenile Pennella, Castellamare di Stabbia e Marina di Vietri, secondo tratto, nonché per l'acqua est fiume Irno afferente al comune di Salerno. Ma torna ad essere balneabile l'acqua denominata Marina Grande, del lato est del comune di Sorrento. Le acque della provincia di Salerno, attualmente in divieto temporaneo, risultano entrambe penalizzate dalla cattiva qualità dei rispettivi apporti fluviali, il fiume Bonea e il fiume Irno. Oltre ai controlli di routine in questo mese, da più punti del litorale Campania sono arrivate ad ARPAC numerose segnalazioni per una colorazione anomala e la presenza di schiuma o mucillagine. È successo ad esempio lungo il litorale Domizio, dal litorale del Golfo di Salerno e dalle coste del Cilento. Ma le analisi non avrebbero svelato particolari fenomeni di inquinamento e le anomalie osservate sarebbero da ricollegare allo sviluppo microalgale favorito dalle elevate temperature del mare. Mentre Salvini litiga con De Luca sulla mancata realizzazione di altri due inceneritori in Campania, la Lega in Irpinia si schiera invece con chi contesta la realizzazione del biodigestore di chi anche una ipotesi che farà brividire e denuncia Sabino Morano responsabile provinciale della Lega che boccia la politica di gestione dei rifiuti del governatore De Luca che punta a far costruire l'impianto di compostaggio al centro dell'area DOC-CG del greco di Tufo ma secondo Morano è ancora più sconvolgente su questa vicenda il silenzio assordante della deputazione regionale erpina. Oggi come in passato conclude l'esponente della Lega siamo al fianco dei cittadini per fermare questo ennesimo schiaffo al nostro territorio. Siti di stoccaggio di rifiuti pieni e al collasso in Campania l'emergenza e alle porte e tornano anche i rughi. A Ponticelli i residenti denunciano sversamenti illegali e fiamme. Nel Sannio invece i primi cittadini chiedono più controlli anche con l'intervento dell'esercito dopo l'ennesimo incendio dello stir. Sentiamo. Cresce la preoccupazione per le condizioni degli stir campani gli impianti per lo stoccaggio dei rifiuti sono al limite l'emergenza è alle porte basti pensare che solo tra Giuliano e Tufino ci sono tra le 15 e le 20 mila tonnellate. Stesse scene a Caivano che producono ovviamente i medesimi risultati file di camion per il conferimento e assenza di mezzi nei centri urbani per mettere in campo la raccolta. E dopo lo scontro politico tra Salvini e De Luca sulla costruzione di nuovi inceneritori la situazione è esasperata e adesso i sindaci guardano con ancora maggiore preoccupazione al momento dello stop di Acerra previsto per settembre. Il sistema di gestione è al collasso come testimoniato anche dai roghi che sono tornati ad inquinare l'aria. Si indaga sulle cause dell'incendio nella serata di Ferragosto allo stir di Casalduni nel Zagno chiuso un anno fa dopo un rogo che ne impedì le attività. Qui i sindaci chiedono maggiori controlli anche con l'invio dell'esercito a presidiare il sito. E tornano i roghi anche a Napoli un grosso incendio di erbacce e rifiuti ingombranti è stato appiccato in un'area abbandonata di Ponticelli nella periferia orientale della città. In via Carlo Miranda ancora i residenti denunciano una situazione inaccettabile. Si sono bruciati amianto guaina solo rifiuti tossici cioè questa situazione sta da un sacco di tempo è diventato una discarica a cielo aperto ormai qua a via Carlo Miranda non è più la via si dice la via dello scarico. dalle istituzioni dal comune e dalla municipalità che può un po' assente in queste zone. Al momento ancora non è stata presentata una formale denuncia ma i familiari vogliono vederci chiaro Salerno sotto shock per la morte improvvisa di Francesca a 12 anni appena deceduta nella notte tra il 14 e il 15 agosto a Ruggi di Salerno l'azienda ospedaliere in una nota ha fatto sapere di aver informato tempestivamente della cosa l'autorità giudiziaria una decisione presa direttamente dai camici bianchi del reparto di pediatria Francesca aveva la febbre alta e un diffuso malessere poi intorno alla mezzanotte poco dopo il ricovero il suo cuore ha smesso di battere l'ipotesi è che la 12enne possa essere stata struncata da una miocardite sarà con ogni probabilità l'autopsia che sarà disposta dalla procura di Salerno a chiarire i contorni di una vicenda che ha sconvolto la comunità di Materno e l'istituto Tommaso D'Aquino frequentato dalla ragazza che le ha riservato un affettuoso messaggio da Dio in 20.000 al corso di Avellino per il concerto di Gaemon il rapper che è tornato nella sua città per l'evento Club del Cartellone estivo esulta l'amministrazione comunale in 15 giorni di manifestazione superate le 30.000 presenze vediamo il sound di Gaemon al secolo Gianluca Piccariello un avellinese doc per infiammare i quasi 20.000 che hanno affollato il corso Vittorio Emanuele Gaemon sale sul palco allestito davanti la villa alle 22.40 e Avellino ritrova il concertone dopo il flop dell'anno scorso un'emozione fortissima quella dell'artista protagonista all'ultima edizione di Sanremo di suonare nella sua Avellino evento clou del cartellone ferragostano tra un pezzo e l'altro ricorda gli anni della sua infanzia nella villa e quelli della scuola elementare proprio a due passi dal palco al convitto il figlio al prodigo con la sua musica ricca di contaminazioni mette d'accordo vecchie e nuove generazioni madri e figlie insieme sotto il palco i miei figli che lo amano e quindi mi hanno coinvolto in questa cosa sono contenta di partecipare con loro lo seguo dal 2012 è più la persona che mi piace perché l'ho conosciuta sono tre anni che lo seguo e io vivo a Treviso ascolto tutte le sue canzoni e sentirlo qui ad Avellino è un'emozione fortissima non vediamo l'ora di sentirlo per applaudire un'eccellenza avellinese quindi era dovuta mi piace sì il ragazzo canta bene è un orgoglio per Avellino ad accoglierlo nel backstage il sindaco Gianluca Festa è l'assessore agli eventi Stefano Luongo entusiasti della risposta del pubblico e di come Avellino stia vivendo questa stagione di rilancio abbiamo in questi 15 giorni del Ferragosto Avellinese già registrato 30.000 presenze avellinesi che hanno di nuovo avuto la volontà di ritornare tra la propria comunità la provincia che ci vede di nuovo come un riferimento e questa sera per il classico concerto di Ferragosto abbiamo una risposta di tutta la regione ho un tumore pregate per me l'arcivescovo di Salerno Luigi Moretti rivela in una lettera ai fedeli di aver scoperto un linfoma di aver avviato un ciclo di chemioterapie lo scorso dicembre le dimissioni per motivi di salute sentiamo il servizio una prova importante forse la più difficile da affrontare ma la quale opporsi con la forza della preghiera sua e dei parrocchiani che in questi anni gli sono stati sempre vicini l'arcivescovo emerito di Salerno Luigi Moretti con una lettera aperta ha reso noto di aver scoperto un tumore contro il quale sta combattendo l'infoma di Occhkin questo il risponso dei medici che lo hanno visitato l'ex guida dell'arci di Occesi di Salerno Campagna Cerno ha già avviato il ciclo di chemioterapia in questo momento di difficoltà sento il bisogno di ringraziare tutti e ciascuno per le preghiere e l'affetto mostratomi nei modi più diversi mi sento parole messo nero su bianco nella missiva indirizzata ai fedeli salernitani Moretti ricorda che il Signore lo ha chiamato ancora a servire la Chiesa con partecipazione e invoca la forza di vivere con fiducia e serenità questo momento Don Luigi si rimette alla volontà divina e non rinuncia al suo speciale servizio dopo le dimissioni da vice parroco a San Giuseppe Lavoratore l'obiettivo è restare vicino ai sacerdoti ma anche ai fedeli che l'arcivescovo emerito incontra nella sua nuova casa parrocchiale compatibilmente con le condizioni di salute per restare con amicizia e gratitudine ha sottolineato vicino al suo gregge Stasera e domani al Teatro Romano di Benevento sarà aperto anche di sera fino alle 22.30 una nuova sperimentazione per valorizzare ancora di più l'arena archeologica sannita vediamo il servizio Due serate per ammirare il tramonto nel Teatro Romano di Benevento e per goderne l'illuminazione serale e la sua affascinante atmosfera il dinamico direttore dell'arena archeologica sannita Ferdinando Creta lancia per oggi e domani la nuova iniziativa delle aperture serali dalle 19.30 alle 22.30 porte aperte per consentire un'ulteriore valorizzazione del monumento Le aperture serali possono favorire il processo di integrazione del teatro con la città perché in orario serale soprattutto essendo un monumento al en plein air c'è sole c'è caldo di sera e poi c'è la suggestione dell'illuminazione Solo un euro il costo del biglietto per l'ingresso che è previsto anche per il 24 agosto giorno del Santo Patrono di Benevento San Bartolomeo quando ci sarà anche un'apertura gratuita del monumento una sperimentazione in attesa di una vera e propria visita speciale si chiamerà Città Teatro e sarà in programma da settembre faremo un percorso di aperture serali probabilmente dall'8 al 22 bisogna prenotare la visita perché offriremo un teatro diverso l'evento si chiama Città Teatro dove il visitatore accede al teatro e quindi ha la possibilità di essere accompagnato con proiezioni multimediali che raccontano il teatro di Benevento e il teatro nella storia e nel tempo In Consiglio Comunale ad Avellino e Bagarra sulle commissioni la minoranza accusa il Presidente Maggio di aver stravolto lo schema iniziale il Sindaco accusa l'opposizione irresponsabili lei è un ignorante si dimetta immediatamente questo l'attacco del Consigliere 5 Stelle Luigi Urciuoli rivolto al Presidente del Consiglio Comunale di Avellino Ugo Maggio il clou di una bagarre che si è vissuta ieri in assise tema della discordia la posizione dello stesso Urciuoli nella composizione delle commissioni consigliari la minoranza accusa Maggio di aver stravolto un accordo firmato dai capigruppo il 12 agosto scorso e ribadito ieri mattina sugli schieramenti delle commissioni che prevedeva la collocazione di Urciuoli nella maggioranza dopo che il consigliere aveva votato le linee programmatiche di festa nel frattempo è intervenuta una nota della prefettura a cui si è tenuto Maggio che invece riposizionava Urciuoli nella minoranza alla fine è ritirata la proposta del Presidente di votare il suo schema il Consiglio per ora resta senza commissioni non c'era alcun accordo sottoscritto tuone il sindaco Gianluca Festa se oggi non si votano le commissioni la colpa è di una parte irresponsabile della minoranza onestamente che chiedono a me di fare chiarezza sul ruolo di un gruppo di minoranza la dice tutta rispetto alla condizione che stiamo avendo invece stiamo per ora governando nel migliore dei modi la replica del Consigliere di Opposizione Montalile accordi non rispettati noto una mancanza completa del rispetto di regolamenti di statuto e quant'altro possa accompagnare una normale ed onesta azione amministrativa laddove non c'è un accordo rispetto ai nominativi da inserire nelle varie commissioni si deve precedere secondo un criterio proporzionale che è molto chiaro e che sicuramente in questo momento non è stato assolutamente eseguito un vero e proprio inferno dietro le sbarre quello denunciato dai radicali e parlamentari protagonisti di un sopralluogo al carcere di Forni a Salerno criticità per la carenza di agenti sovraffollamento in cella e le carenze assistenziali ai detenuti sentiamo una delegazione trasversale di parlamentari di destra e sinistra ha accolto l'appello lanciato dai radicali di Salerno per una serie di sopralluoghi al carcere di Forni obiettivo calarsi da vicino nella difficilissima condizione in cui versano i detenuti una battaglia che i radicali portano avanti da tempo e che hanno esteso anche alle sensibilità politiche trasversali con l'obiettivo di adottare tutte le contromisure possibili mandate in archivio la prima visita un altro sopralluogo all'istituto penitenziario di Salerno è in programma martedì prossimo le emergenze sono innanzitutto della carenza di organico degli agenti penitenziari perché troppo pochi rispetto alle esigenze si pensi che hanno un organico che è inferiore ai 300 e poco più detenuti che la cassa circondariale di forni dovrebbe ospitare e se pensate che adesso sono 518 526 ora non ricordo esattamente il numero sono circa 200 detenuti in più poi c'è il problema dell'assistenza sanitaria dell'approvvigionamento dei farmaci c'è il problema del tipo di alimentazione che non c'è una dieta molti potranno dire ma sono detenuti ma non per questo non devono avere riconosciuti i diritti essenziali ci sono giorni in cui per qualche agente in malattia per la necessità di trasferire o in tribunale o in ospedale alcuni detenuti e quindi di ottemperare agli obblighi di scorta che alla fine nella cassa circondariale per 500 detenuti ci sono 7 non più agenti una visita una visita ispettiva anche al carcere di Bellizia d'Avellino organizzata dalla Camera Penale e dal garante dei detenuti un carcere più vivibile con un'adeguata assistenza sanitaria e l'appello che raccolgono dai detenuti sentiamo un carcere più vivibile è quello che chiedono i detenuti di Bellizia questa mattina il presidente della Camera Penale Luigi Pedrillo l'avvocato Giovanna Perna responsabile regionale dell'osservatorio carcere Carlo Mele garante dei detenuti della provincia di Avellino hanno effettuato un'ispezione nel penitenziario di Avellino situazione critica soprattutto sotto il profilo sanitario credo che dovremmo assumere delle iniziative ancora più più forti perché ci siamo resi conto che l'assistenza soprattutto di carattere psichiatrico non è garantita gli organici sono assolutamente sottodimensionati e i detenuti vivono una condizione non più gestibile la mancanza di attività trattamentali non consente poi di ottenere un risultato che è quella della funzione della pena che è la funzione rieducativa quindi se non c'è attività trattamentale viene meno quello che è il senso della pena stare in carcere sicuramente per scontare una pena ma stare in carcere anche per uscire poi migliori di come si è entrati questo istituto come in tutta Italia ha una percentuale di esubero siamo oltre 100 unità allora il carcere come diceva l'avvocato Perna è un momento dove si fa rieducazione io ripeto sempre che da qui si entra ma da qui si esce questo periodo non può restare un periodo che non è controllato che non è verificato perché se no non è servito a niente non serve neanche tutta questa enorme spesa economica che a livello nazionale il ministerio della giustizia pone sulle carceri caos negli uffici demografici del comune di Benevento per la carenza di personale commenta i problemi dei dipendenti e la disorganizzazione il consigliere Vincenzo Sguera che annuncia trovare immediatamente delle soluzioni A Benevento è caos presso gli uffici demografici del comune alcuni giorni fa una disposizione di servizio firmata da un dirigente con la quale di fatto veniva sospeso il servizio dello stato civile comunale il sabato e la domenica per carenza di personale aveva alimentato una serie di polemiche disposizione poi ritirata proprio per le proteste episodio che ha però acceso i riflettori sui problemi che già da tempo stanno caratterizzando l'organizzazione dei dipendenti assegnati al settore demografia Mi sono reso conto che ci sono dei problemi all'interno del settore demografia che riguardano tanto il numero del personale adibito all'ufficio sia l'organizzazione dell'ufficio stesso in particolare poi mi sono reso conto guardando dei verbali di riunioni sindacali che esistono anche dei mancati pagamenti del salario accessorio lamentato dai dipendenti per cui è ovvio che bisogna prendere spunto da quella disposizione e capire la ragione che ha portato a quel provvedimento e impegnarsi per chi ha competenze nella materia di trovare delle soluzioni che vadano appunto a sostegno dei dipendenti Vincenzo Sguera consigliere comunale del Forza Italia rimarca la necessità di delegare un assessore e un consigliere che si preoccupi di pianificare l'organizzazione complessiva dei dipendenti comunali nominare un consigliere delegato ma ancora di più io penso a questo punto un assessore che sia delegato al personale perché in questo momento c'è bisogno di qualcuno che si occupi dell'intera compagine degli impiegati comunali presso l'ente anche perché ci sono dei pensionamenti continui Ed era l'ultima notizia il TG termina qui grazie alla regia di Orlando Matarazzo vi auguro una buona giornata Grazie a tutti Grazie a tutti